Oggi siamo a Ragusa su uno dei primissimi cantieri con ecobonus al 75% siciliani, un cantiere in cui è partner Enelix che ha acquisito il credito. Stiamo utilizzando dei materiali ad altissima tecnologia, dei rivestimenti termoceramici di Thermoship, un'azienda tedesca leader mondiale in questo genere di prodotti e un sistema di insufflaggio molto innovativo messo a punto da una startup incubata dal Politecnico di Forino. Enelpeper è un prodotto molto interessante perché è un isolante a base di cellulosa che viene iniettato all'interno dell'intercapedine senza aumentare lo spessore. Tecnova Group è un'azienda all'avanguardia in questo genere di soluzioni e ci siamo specializzati non solo in prodotti ad alta tecnologia per detenizia ma anche in acquisto di crediti dell'ecobonus. Al momento, mentre vi parlo, siamo in attesa del super bonus al 110% che consentirà di ristrutturare intere palazzine e in questo siamo affiancati non soltanto da Enelix ma anche dai nostri tecnici che sono in grado di fornire non solo le soluzioni ma anche di analizzare ogni singolo edificio per capire se ha la possibilità di accedere agli incentivi statali.